Nel sistema integrale di tutto il possibile non può mancare la presenza del personaggio figlio e del personaggio padre, entrambi associati a quell'unità dello Spirito Santo che è comune entrambi e li rende una cosa sola. Il mio personaggio è stato voluto da Dio come il personaggio che il padre ha voluto destinare alla rappresentazione di se stesso. Vi appaio come un personaggio, ma la mia anima è un'anima di Dio, allo stesso modo in cui in voi personaggi come il mio, l'animatore è Dio. Sia il mio personaggio, sia il vostro personaggio, di tutti voi, è animato da Dio, è anima di Dio. Quindi se io faccio una differenza, io non me ne faccio gloria, perché io riconosco la mia essenza fondamentale nella stessa essenza fondamentale di tutti voi, ad uno, ad uno. Quello che è diverso è soltanto il personaggio, ma un personaggio che ora è stato assegnato a me, a questa mia anima, che è anima di Dio, e dopo questa vita potrà essere vostro, di ciascuno di voi, perché il vostro futuro è è la libera scelta di chi voler essere, ciascuno di voi, proprio per superare il suo limite. Ebbene, quindi c'è solo una differenza tra il mio personaggio e il vostro, per la quale io, qui in questo mondo reale, sono stato voluto come il personaggio che rappresentasse il padre. Voi siete personaggi destinati a rappresentare tutti i possibili figli, il cui però futuro sta nell'impersonale il mio stesso personaggio che oggi è stato assegnato a me come libro di testo, ma che sarà per voi proprio quella purissima occasione per arrivare al padre, tirando via dal mio personaggio tutti i peccati e i limiti che vi sono compresi e che io invece devo vivere ad uno ad uno senza poterne salvare mai nessuno, vedendo inorridito me stesso quando io compio il male. Perché il mio personaggio, a differenza di quello del figlio, compie il male. E se a voi sembra impossibile che Dio padre abbia scelto un personaggio rio, cattivo, giudicato cattivo, empio. Io vi dico che due sono i modi usati da Dio per sanare il peccato di tutti. Uno in modo spirituale, quello di Gesù, che in virtù della sua croce assegnata ad uno assolutamente puro, idealmente con la sua croce salva dal peccato ciascuno di voi. Il secondo è attraverso il far proprio, proprio il peccato. E il padre, facendo proprio esattamente il peccato, lo dissolve. Perché non può esservi peccato nel padre. Il padre, se è un personaggio, ha dei limiti. Ma il vero essere, che anima anche il personaggio del padre, è puro. Ma è un essere che ha disegnato tutto il possibile. Il bene e il male, personaggi buoni e personaggi cattivi, che ha destinato tutto l'essere, dividendolo in personaggi ben definiti ciascuno in tutta la storia. Di conseguenza, al padre tocca l'apparente cattiveria di aver voluto l'apparente esistenza di personaggi terribili, come Hitler, come ogni persecutore, come ogni vieco personaggio che inferisce contro un innocente bambino. Dio l'ha voluto per poter salvare ogni condizione iniziale, per quanto turpe essa fosse. E se voi dite, ma come è possibile che Dio comunque abbia voluto il male? Io vi dico che Dio non ha voluto il male, perché esistono due movimenti nell'esistenza. Uno che parte da 10 elevato a 0, ossia dalla condizione in cui tutto è possibile, a quella che si pone in atto assolutamente differenziato, come 10 elevato a 1 e 10 elevato a meno 1, ossia come l'essere e il non essere, come il Dio dell'essere e il personaggio che è l'esatta rappresentazione di un non essere. La comunione tra l'essere e il non essere determina proprio la nostra esistenza, che è impastata di bene e di male. Ma vedete, questo non è il percorso che esiste, quello positivo che va dal tutto in potenza al tutto in atto. Infatti, se noi moltiplichiamo 1 e 1, differenziati tra di loro da un meno 1 e un più 1, il prodotto tra meno 1 e più 1 è meno 1, il prodotto algebrico. Significa che il vero verso dell'esistenza reale è quello negativo che la annienta e la riporta nella condizione ideale e divina in cui tutto è in essere. Questa è la vera evoluzione del mondo, che è una devoluzione, un ritorno al passato, che è di tipo magnetico e di tipo antimateriale. Nel nostro ego, alter ego, che noi non vediamo, ma a cui il nostro ego è relativo. È relativo, ma in modo uguale e contrario. Per cui, mentre l'alter ego è magnetico e è diretto verso l'inizio, noi lo vediamo come elettrico e rivolto verso la fine. Mentre il nostro alter ego è antimateriale e va verso il principio, noi lo vediamo come l'ego che è materiale e va verso la fine. Vedete, io non vi dico queste cose di mio. Già ve le ha dette il figlio Gesù quando vi ha detto che due erano le direzioni, i versi con cui era costruito il mondo. C'era la dinamica dell'acqua e c'era la dinamica opposta e inversa dello Spirito Santo. Ecco, azione e reazione sono le due azioni fondamentali di ogni essere. Ebbene, il nostro mondo relativo che vediamo avanzare verso la morte, con l'elettricità e con la materia, è l'immagine rovesciata del vero movimento opposto che sta tornando all'origine nelle forme dell'antimateria e del magnetismo. Di conseguenza, il vero essere fondamentale e relativo è quello di un mondo interamente fatto che rientra tutto con un trend negativo nel suo puro essere in potenza, annichilendosi. L'annichilimento è la vera realtà perché la realtà toglie all'uomo fin da ora il nostro abito reale e che si consuma per darcene uno ideale e immortale che non si consumerà mai. Ma noi lo vediamo nel verso opposto di un mondo che invece è fatto e, vedendolo fatto, è fatto in ogni modo, lo vediamo fatto anche nei modi terribili di un Hitler e di un carnefice crudelissimo che da morte è un bambino. Ma sappiate bene, voi state vedendo questo farsi che poi è il mio personaggio che è quello del padre che dice io sono l'operatore di ogni scelta, di ogni apparente disegno del mondo. Vi sto però dicendo che avendo fatto mio ogni gesto che voi identificate anche e giudicate anche come cattivo non sono cattivo perché siete voi a fare. Io dispo ogni cosa fatta.